Come la pensa su questo? Intanto vorrei ricordare un fatto che credo sia fondamentale. Noi abbiamo fatto e sostenuto convintamente il governo Draghi che ha svoltato completamente la campagna vaccinazioni con il generale Figliuolo. Seconda cosa che va sottolineata, noi intanto la vaccinazione la dobbiamo terminare perché sono circa 36.000 le persone in Italia che hanno ricevuto due dosi. In terzo luogo l'obbligo vaccinale è stato introdotto prima come sappiamo per il personale sanitario e poi per gli insegnanti. Dopodiché andare a entrare a gamba tesa prima di aver finito questo lavoro sull'obbligo vaccinale potrebbe essere un falso problema. Il timore probabilmente è quello di inasprire il dibattito politico e non raggiungere l'obiettivo. Quindi noi pensiamo francamente che i provvedimenti che sono stati presi dal Green Pass, per esempio, lo abbiamo sempre sostenuto, siano provvedimenti giusti, esatti, ma dobbiamo assolutamente terminare la campagna vaccinale dove tra l'altro i giovani, come mi piace e vorrei sottolineare, sono sicuramente più entusiasti di quanto non lo siano invece gli ultri cinquantenni che mi pare comunque un buon segnale. Una conferma che possiamo chiedere a Federico Lobono, saluto e ringrazio anche lui.